Radio più Roma presenta Gente di Corviale, la realtà vista dalle periferie un programma di Valeria De Simone a cura della parrocchia San Paolo della Croce Mi chiamo Pino Galeota, sono il presidente Corviale Domani che è un'associazione di coordinamento territoriale La nostra storia nasce nel 2008 in quanto era stato definanziato un progetto del quadrante di Corviale avendo io fatto anche l'amministratore pubblico quando ho deciso di autorottomarmi sono ritornato a fare volontariato anche sul territorio Parte da lì abbiamo fatto, prima di arrivare a fare un progetto più definito abbiamo studiato il territorio quindi abbiamo concordato con la regione che facesse un studio accurato rispetto a questo è stato fatto insieme alle università che ha dato dei risultati su cui noi potevamo iniziare a lavorare siamo ritornati all'antico, ovvero all'inchiesta l'inchiesta sul territorio quindi abbiamo messo le scarpette da tennis quando faceva caldo e i scarponcini quando faceva freddo e abbiamo visitato tutte le realtà territoriali abbiamo quindi incrociato la ricerca con la realtà territoriale e da lì è nata l'idea di fare un distretto diciamo così che è basato soprattutto sulla capacità delle persone di aver regenerato il territorio senza che nessuno gli avesse mai detto ecco questo è c'è stato una sorta di senso di colpa da parte delle istituzioni per cui hanno messo dei fondi che spesso non venivano usati nel nostro coordinamento non so, 60 associazioni poi le associazioni nascono e muoiono poi si riciclano eccetera eccetera noi tentiamo di tenere aggiornato l'agenda insomma chiamiamola così e quindi nasce questa cosa e la vita è fatta a decoincidenze e diciamo noi le coincidenze ce le andiamo a cercare qualche volta sono positive e qualche volta sono negative e in questo territorio vivevano due responsabili del MIPACT che hanno capito qual era il nostro scopo intanto noi avevamo costruito col comune, col territorio eccetera eccetera un rapporto però nel 2012 noi abbiamo fatto il primo forum nazionale dedicato a Corviale che si chiamava La Forza nel Segno e l'abbiamo fatta all'interno del Ministero dei Beni Culturali noi lì abbiamo messo in bella tutte le attività che si facevano ogni associazione ha raccontato quello che quindi diceva io faccio questo e noi abbiamo accompagnato questo abbiamo sottoscritto un atto di intesa tra il territorio, la regione, il comune, il MIP insomma con le istituzioni anche quelle lì del terzo forum, il terzo settore, il centro del volontariato e arriviamo fino al 2015 quando i tre anni che avevamo previsto dell'atto di intesa sono scaduti e poi sono cambiate le amministrazioni noi siamo sopravvissuti i nostri slogan sono due la realtà si vede meglio dalle periferie cosa che ha detto Papa Francesco poi lui ha continuato, noi invece abbiamo estrapolato questo lui è venuto qui insomma grazie al nostro impegno di farlo venire qui e la seconda è senza rispetto delle regole e senza sicurezza non si fa nessuna rigenerazione urbana abbiamo fatto l'ultimo forum a maggio dell'anno scorso e abbiamo messo a punto tutto quello che si può fare sul territorio stiamo per firmare un altro atto di intesa ci abbiamo messo 13 mesi, 14 mesi con la regione abbiamo voluto che ci fossero presenti tutti coloro che negli ultimi 12 anni ci hanno accompagnato in questa avventura che nessuno credeva che potesse durare tanto tempo e quindi cominciamo la terza fase la realizzazione grazie a tutto questo lavoro che abbiamo fatto noi siamo l'unica realtà e dico purtroppo tre volte che a Roma è in grado di fare di creare un'economia e un'attività e una storia green come si dice deal abbiamo 1400 etteri di parco ma siamo gli unici che avendola studiata per 12 anni siamo in grado di poter mettere in cantiere questa cosa adesso poi chi vivrà vedrà e proprio qualche giorno dopo aver incontrato Pino lo scorso 27 febbraio c'è stato un incontro istituzionale per avviare il percorso partecipativo sulla rigenerazione urbana del quadrante Corviale è il momento di andare oltre la riqualificazione ha detto l'assessore della Regione Lazio all'urbanistica e alle politiche abitative Massimiliano Valeriani per rendere più incisivo il piano di azione al via tre tavoli di lavoro suddivisi in ambiente, energia e rifiuti sociale, cultura e sport sviluppo economico e commercio che consentiranno di affrontare il programma di rigenerazione in tutti i suoi aspetti Grazie a tutti